Il cantiere di Via Alvino e le scoperte archeologiche emerse durante i lavori di sbancamento del basolato all'ordine del giorno della Commissione Lavori Pubblici di Palazzo Carafa. Occasione per fare il punto sulla situazione del cantiere anche alla luce delle scoperte archeologiche fatte durante le operazioni di rimozione del basolato che hanno portato alla luce un'ulteriore porzione dell'anfiteatro romano. Scoperta quella fatta dagli operai della ditta incaricata che non ha comunque fermato il cantiere e ne lo fermerà in seguito. Anzi, come ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla, i lavori proseguiranno, secondo il progetto iniziale, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Solo alla fine delle attività di sbancamento dell'area di cantiere di Via Albino, che si affaccia sull'anfiteatro romano, si valuterà il da farsi. Anguilla, infatti, ha evidenziato nel corso del suo intervento che al termine delle attività di cantiere la decisione sugli interventi da mettere in atto sarà presa esclusivamente dalla sovrintendenza ai beni culturali del capoluogo. Resta evidente la volontà da parte dell'amministrazione comunale, ha poi aggiunto l'assessore ai lavori pubblici, di ultimare i lavori e di valorizzare dal punto di vista storico-archeologico tutta l'area di Piazza Santoronzo. Valorizzazione dell'area e delle nuove scoperte fatte, avanzata anche dall'archeologo, professor Francesco D'Andrea, il quale aveva avanzato anche l'idea di posizionare basuli di colori differenti per evidenziare le parti interrate dall'anfiteatro. La prossima riunione della Commissione Lavori Pubblici, che sarà convocata per discutere del cantiere di Via Albino, sarà estesa anche alla sovrintendenza ai beni culturali.